Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì di una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così, e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno i compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. E si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zevedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, Non temere. D'ora in poi, sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questo brano di Vangelo ha il suo culmine in quello che dice Pietro. Sulla tua parola getterò le mie reti. Dopo una notte di fallimento, dopo una pesca andata a vuoto, dopo tempo sprecato, dopo energie perse, dopo un fallimento totale. Ecco che questa frase di Pietro apre a qualcosa di inedito di nuovo. Sulla tua parola getterò le mie reti. Solo Pietro poteva gettare le reti. Solo Gesù poteva compiere quel segno forte di riempire di giorno quelle reti di pesce. Se Pietro non l'avesse gettato, non avrebbe sperimentato questa grazia sovrabbondante. Sulla tua parola getterò le mie reti. Io non so che peso diamo alle parole che diciamo o alle parole che dicono gli altri. Però quante volte ci è capitato di fidarci delle parole sbagliate, delle persone sbagliate. E quante volte ci è capitato di non dare fiducia a ciò che il Signore ci diceva. Perché era molto più conveniente, molto più semplice, molto più affidabile il frutto dei nostri ragionamenti. Quanto potrebbe essere diversa la nostra vita se anche noi come Pietro ci fidassimo. Sulla tua parola Signore getto le mie reti. Sulla tua parola perché è affidabile, perché è eterna, perché non è condizionata dal momento o dai sentimenti. Ma è condizionata solamente dal tuo amore, dalla tua misericordia. Sulla tua parola getterò le mie reti. Se io oggi dico questo, che cosa potrei vedere? Il Signore lo sa e non vede l'ora di donarcelo.